Com'è la situazione e come la vivete voi? Noi abbiamo appreso attraverso un comunicato dell'assessore Cutini la notizia, ci ha lasciato francamente basiti, anche con molto amare in bocca, perché la nostra istituzione in quattro anni è riuscita a produrre dei risultati assolutamente lusinghieri che ci sono stati riconosciuti in tre occasioni da parte del Presidente della Repubblica, da parte del Presidente Grasso, da parte del Presidente Enrico Letta, del Ministro della Salute Lorenzin, del Ministro dell'Interno Alfano e in ultimo anche da Papa Francesco. I risultati sono assolutamente gregi perché dal 2005 al 2008, il momento in cui Roma aveva un più 70% di mortalità in Italia rispetto alle grandi città metropolitane, con quattro anni di sonoro lavoro Roma dal 2009 al 2012 è diventata in assoluto la città più virtuosa in Italia per quanto riguarda le morti per droga. Siamo riusciti a far ridurre drasticamente il dato di morti per droga salvando 155 vite umane, cioè facendo scendere questo dato assolutamente tragico ben del 56,8%. Nonostante un periodo di vacche magre, come è stato l'ultimo quadriennio sicuramente, siamo riusciti nonostante ciò ad avviare un numero di servizi sul territorio perché i cittadini romani potessero essere sempre più salvaguardati a fronte alle tematiche che noi evidentemente affrontiamo e che implicano anche la morte nei casi più gravi. Abbiamo ridotto, dicevo, del 56,8% il dato sulle mortalità, ma abbiamo innalzato del 26,7% il numero dei servizi e abbiamo soprattutto ridotto il numero di tossicodipendenti presso i nostri servizi territoriali, parlo di tossicodipendenza attiva, ben del 13,9%. Ora tutto questo che ITER che è stato avviato ieri e di cui si è appreso tristemente soltanto a mezzo comunicato ha escluso totalmente la interlocuzione attraverso la nostra istituzione. Il direttore non è mai stato audito da parte dell'assessore nonostante anche le diverse richieste, così come il consiglio di amministrazione ed anche da parte del sindaco Marino. Oggi noi ci troviamo sicuramente a fare i conti con una realtà che è molto più politicizzata, ideologizzata e che forse guarda nella direzione di alcune cooperative che per 11 anni hanno gestito totalmente il patrimonio della pubblica amministrazione pur in assenza di linee guida e si vuole spacciare una decisione politica come se fosse frutto di una mancanza, lacuna da parte della nostra amministrazione svolta in questi ultimi 4 anni e mezzo di assoluto lavoro che è anche best practice in Europa e questo è sicuramente ciò che non soltanto lede gli amministratori e la direzione ma sicuramente lede innanzitutto gli interessi dei cittadini romani.